Cosa? Non è possibile! La tua energia dovrebbe essere esaurita ormai! Ma allora Jiren, hai capito che non è ancora finita? Ma come fai? Come fai a rialzarti tutte le volte che un attacco ti mette fuori combattimento? Il merito è di G-17 e di Vegeta e di tutti coloro che in me hanno sempre avuto fiducia. Io non denuterò le loro speranze, quindi non farò un solo passo indietro. Stai zitto! Ciò di cui parli non ha alcun senso di fronte alla mia porta! Ti sbagli, ti farò vedere che qualche senso ce l'ha! Ma cosa dici, sembra? Nell'acqua, la vostra vira potenza è questa, Jiren.